Le province sono destinate a diventare un ricordo. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la loro soppressione e il trasferimento delle relative funzioni che dovrebbero passare in capo alle regioni. La possibilità di un dietro front è praticamente nulla, così come di uno stop al provvedimento in aula, visto che il governo porrà la fiducia sulla manovra che conterrà anche il testo cancella province. Il problema vero è capire a chi spetterà ovviamente il trasferimento delle funzioni. Si parla di una competenza delle regioni, ecco io credo che su questo noi vigileremo anche perché ci sono competenze direi molto puntuali delle amministrazioni provinciali che non potranno essere trasferite to cure alle regioni che non hanno compiti gestionali. Penso alle politiche attive del lavoro, alle politiche ambientali, strade, scuole, ecco. E quindi sono fortemente preoccupata di come poi noi e i cittadini attraverso nuovi organismi. Allora mi chiedo dove ci sarà risparmio. Ed è appunto il presunto risparmio il nodo principale. Se al posto delle province verranno creati organismi come le città metropolitane, delle agenzie o degli uffici specifici in regione, non si potrà comunque fare a meno di figure apicali, spiega la Poropat, che si prendano la responsabilità di fare delle scelte e gestire i servizi sul territorio. Questi manager però, attacca la Presidente, andranno pagati profumatamente. Tenendo presente che l'intero apparato politico della provincia di Trieste, Presidente, Giunte e Consiglieri, costa complessivamente 400.000 euro l'anno. Sempre sul fronte economico, bisognerà valutare l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti delle province che passeranno alle dipendenze delle regioni, ove non esiste, come Friuli, Venezia e Giulia, il comparto unico. Quanto agli organismi che dovrebbero assolvere le attuali funzioni della provincia, la Poropat ribadisce la necessità di mettere assieme Trieste e Gorizia. La stessa città metropolitana che io non ritengo la soluzione ideale per Trieste, mentre punterei piuttosto su un discorso di area metropolitana che in qualche misura comprenda anche Gorizia, per omogeneità di territorio e anche per quanto riguarda proprio lo sviluppo economico. Pensiamo al porto Trieste-Monfalcone, all'autoporto, all'aeroporto. Quindi su questo ovviamente c'è piena disponibilità a collaborare col Presidente Tondo.